Dopo la globalizzazione, è probabile che si assista ad una deglobalizzazione? Come stravolgerà le strategie di investimento? Oltre alla dinamicità delle informazioni e degli eventi degli ultimi 15 anni, che impatto hanno nella strategia di investimento a lungo termine? Chi comincia? Allora, io analizzo la prima frase. Dopo la globalizzazione, è probabile che si assista ad una deglobalizzazione? Secondo me è molto improbabile. E non stravolgerà di certo le strategie di investimento, perché se siamo giunti fin qui con questo grado di progresso, è una cosa, insomma, notevole, che, insomma, non mi sento di negare, ecco. Per quanto riguarda la dinamicità delle informazioni e degli eventi degli ultimi 15 anni, che impatto hanno nella strategia di lungo termine? Questa domanda, insomma, rievoca un pensiero che ho voluto esprimere nel precedente webinar. La dinamicità delle informazioni e degli eventi che sono successi negli ultimi 15 anni, sono da attribuire all'eccesso di informazioni a cui oggi siamo costantemente bombardati. Quindi oggi la volatilità che vediamo sui mercati è dovuta proprio all'eccesso delle informazioni, perché siamo costantemente bombardati di informazioni soprattutto negative da parte dei giornali, che chiamano le catastrofe ogni giorno. Quindi la volatilità di questi giorni è proprio da mettere in relazione con questo. E sono proprio queste informazioni, a mio avviso molto furbianti e assolutamente decontestualizzate, che fanno prendere alle persone delle scelte scorrette, come ad esempio vendere i propri investimenti, uscire dal mercato, come abbiamo visto prima. E quindi questo sì ha un impatto nella strategia di lungo termine, perché questo continuo a entrare e uscire dal mercato, a seconda di come vanno le notizie, causa poi la perdita di rendimenti certi che si potrebbero avere in futuro. Quindi secondo me la dinamicità delle informazioni e degli eventi negli ultimi 15 anni non sono altro che la conseguenza di questo eccesso di informazioni di cui noi oggi costantemente vogliamo nutrirci, tra TG, telegiornali, canali YouTube catastrofici e così via. Quindi secondo me gli eventi non impattano una strategia di investimento di lungo termine, anzi il consiglio che noi diamo è quello di fare un filtro, perché non tutte le notizie sono importanti e molte anzi non ci interessano, non devono proprio interessarci, ecco. In tanti casi sono pure intrattenimento, come la pizza di Briature, di cui si sta discutendo tanto in questi giorni, insomma. Sì, è un intrattenimento. È un intrattenimento, cioè nel senso, ho fatto l'esempio della pizza di Briature per dire che in realtà anche le parole del responsabile investimento della banca X o dell'economista che viene intervistato, eccetera, sono esattamente come le interviste che fa Briature quando parla della pizza e dice che deve costare di più. Tutti questi economisti italiani e internazionali sono un po' come i biologi, mi spiace dirlo, ma se non annunciano la catastrofe in tanti casi... Non se li calca nessuno. Non se li calca nessuno, non li intervista nessuno. Quindi in tanti casi lo fanno per intrattenimento, perché se non fanno così non finiscono sul giornale, non li chiamano nei talk show. Questi sono i peggiori alleati dei vostri investimenti in tanti casi, non sono i vostri migliori alleati.